Quando ho visto questi oggetti ho pensato all'evoluzione dei manufatti industriali che sono arrivati ad essere ormai così vicini a una letteratura di fantascienza oppure anche alcune visioni marinettiane del futurismo poetico o a visioni proprio di viaggio, viaggio siderale, viaggio nel futuro, viaggio nello spazio. Mi sono detto ma se questi oggetti capitassero in mano degli artisti che cosa accadrebbe? Torneremo indietro, andremo ancora più avanti e così da qui è nato l'input per sperimentare questa osmosi creativa fra arte e industria. Questo è il primo motivo per cui mi sono mosso per portare Brembo agli artisti e viceversa. La scelta degli artisti non è stata per nulla casuale in quanto gli autori hanno una grande sensibilità verso l'industria nel suo crescere, nel suo essere dinamica, nel suo evolversi in ricerca delle tecnologie, dei materiali. Tutti questi artisti hanno prodotto e producono opere che hanno un legame con l'industria. Bruna Ginami con la fotografia, Marzia Migliora con gli ambienti industriali, Barbara Fassler con i luoghi urbani e con l'evoluzione dei materiali, Iroh con gli aspetti di narrazione, Melina Mulas con la fotografia. Quindi questi oggetti sono in forte simbiosi con il loro lavoro. Ognuno ha lavorato liberamente ispirandosi al proprio know-how per cui gli oggetti che abbiamo qui parlano da soli. Ilaria Bocchicchio che ha creato questa teca colorata con il suo esprigio vanile. È veramente un viaggio anche attraverso l'immaginario degli artisti. Sei donne un uomo non è voluto, è casuale. È un periodo in cui le donne stanno lavorando bene sia nell'arte che nella poesia. Mi era già successo lo scorso anno al festival di Recanati manifestare poesie di cui sono stato direttore artistico e la maggioranza dei poeti erano donne e in questo momento la loro ricerca probabilmente dal mio punto di vista ha raggiunto e sta raggiungendo dei livelli di creatività considerevoli e quando mi sono accorto di questa enorme variabile non mi sono per nulla timorito né altro. È stata veramente così casuale e questo è.